salve a tutti buongiorno e buon anno pubblico questo video il primo gennaio in un anno nuovo colmo di attese certamente segnate dall'emergenza pandemica che ha caratterizzato il 2020 non ho velletà da presidente della repubblica ma pubblico proprio questo video il primo gennaio e anche chi lo vedrà sul canale youtube nei mesi successivi e bene che lo sappia proprio perché è bello secondo me durante l'anno avere un punto di partenza da ripercorrere e il punto di partenza è sempre la poesia che rende bella musicale e se vogliamo eterna la nostra esistenza che abbiamo sperimentato essere fragile e fugace leggo la poesia che si intitola il primo gennaio proprio come oggi scritta come oggi in questa mattina del primo gennaio quando si mette a posto la casa dopo il veglione del 31 d'eugenio montale che riflette dopo una notte di attese sul mistero della vita dice so che si può vivere non esistendo si può essere molto vivi pur essendo dei personaggi immaginari nati magari dalla penna di uno scrittore so anche che si può esistere non vivendo cioè si può essere soggetti passivi dell'esistenza che abbiamo ricevuto e della storia che ci troviamo a vivere lui finisce la poesia poi descrivendo il movimento della donna amata che mette a posto la casa e dice l'ospite più indegno del veglione di ieri sera ero io tutti gli altri erano pieni di vita io me ne stavo a bocca chiuso zitto a guardare in quel tono di malinconia di vita che prenda le distanze da te che è tipico di certi tratti di montale leggo allora questa poesia veramente come augurio al di là di quelle che possono essere le mie passioni che condivido come augurio perché tutti noi si possa esistere vivendo dando un senso e un significato a questa esistenza che per quanto fragile e debole può essere se lo vogliamo meravigliosa il primo gennaio so che si può vivere non esistendo emersi da una quinta da un fondale da un fuori che non c'è se mai nessuno l'ha veduto so che si può esistere non vivendo con radici strappate da ogni vento se anche non muove foglia e non un soffio in crespa l'acqua su cui si affaccia il tuo salone so che non c'è magia di filtro o di infusione che possano spiegare come di te s'azzuffino dita e capelli come il tuo riso esploda nel suo ringraziamento al minuscolo dio a cui ti affidi d'ora in ora diverso e ne diffidi so che mai ti sei posta il come il dove il perché pigramente rassegnata al non importa al non so quando o quanto assorta in un oscuro germinale di larve e arborescenze so che quello che afferri oggetto o mano penna o portacenere brucia e non se ne accorge né te ne avvedi tu animale innocente inconsapevole di essere un perno e uno sfascelo un'ombra è una sostanza un raggio che si oscura so che si può vivere nel fuochetto di paglia dell'emulazione senza che dalla tua fronte dispaia il segno timbrato da chi volle tu fossi e se ne pentì ora uscita sul terrazzo annaffi i fiori scuoti lo scheletro dell'albero di natale ti accompagna in sordina il mangianastri torni indietro allo specchio ti dispiace ti getti a terra con lo straccio scrostri dal pavimento le orme degli intrusi erano tanti e il più impresentabile di tutti perché gli altri almeno parlano io a bocca chiusa auguri di nuovo buon anno